Qualche amico mi ha chiesto che libri leggi, faccelo sapere. Io non so che cazzo mi interessa quello che leggo io, però dato che questa rubrica vi racconta un po' di me, in tutte le mie vesti musicali, didattiche, di pensiero, vabbè perché no, vi faccio vedere, vi elenco i libri che ho letto praticamente in questi ultimi due anni. Alcuni libri non devo neanche commentarli perché non saprei cosa dire, bisogna stare in silenzio e venerare gli autori o i biografi. Allora, questo. Come scrive lui è emozione pura. Respirate le montagne, respirate i boschi, respirate i drammi della guerra, la vita sua e di uomini incredibili. Capolavoro, Alan Lomax, ha fatto via audio, con un registratore a bobine, un'intervista lunghissima a Jelly Roll Morton, che poi il traduttore ha stampato in un libro. Qui vi leggete veramente la nascita del jazz, il red time, ma l'espressione di vita della New Orleans di fine secolo, ottocento, fino ai primi anni del secolo. Veramente un libro affascinante. La vita dei creoli, dei neri e tutto quello che è successo parallelamente alla vita sociale con le problematiche razziali, tutto quello che è successo nella musica. Veramente come è nato il jazz, come si è concepito. E il perché è nato attraverso la vita di un periodo storico incredibile, grazie a questi uomini pazzeschi. Il libro che ha scritto Peter Erskine, la sua vita legata ai cosi, ai weather report, ma in realtà poi racconta tutta la sua vita musicale. È interessantissimo leggere con la sua filosofia musicale. Poi capisce perché suona così, sempre con un'intelligenza estrema, misurata. Poi può piacere o meno, a parte che quando suonava con i weather report, i weather report era un gorilla, una bestia satanata. Poi man mano si è raffinato e ha escluso dalla sua vita musicale molti parametri batteristici per far emergere solo quelli musicali e compositivi. Peter Erskine. Bellissimo. Bellissimo. E questo Stefano Zenni ancora di più, perché va a scavare in profondità nel dettaglio non solo il percorso artistico di Armstrong, ma tutta la vita e tutto il contorno di vita sociale e familiare e musicale di Louis Armstrong. La differenza tra i surrealisti e me è che io sono surrealista. Grazie. Grazie. Meraviglia. Tutte le lettere scritte da Mozart, padre e figlio, alla moglie e alla figlia, la sorella di Wolfgang, nei loro viaggi in Italia. Bellissimo. Perché ti trasmettono anche quello che era la vita in Italia alla loro epoca. Edem, capolavoro, ne ho già parlato in un video. Anche qui tutta la corrispondenza sua. Affascinante. Bellissimo. Ah, bellissimo. Ha scritto il mio amico Enrico Merlin. È un volume molto, molto ben scritto ed è tagliatissimo. Ultimo, altro amico, altro grande musicologo e scrittore, Luca Bragalini. Stupendo anche questo libro. A parte la storia in sé, affascinante, impegnativa, sono anche dentro delle fote dello studio che da qualche anno si chiama Officine Meccaniche di Mauro Pagani. È uno studio che Mauro ha tenuto nella sua estetica come era negli anni Sessanta. c'è il grande salone dove registravano le grandi orchestre e dove è stato registrato questo lavoro, non il libro, il disco di Ellington con l'orchestra della Scala e guardo le foto e vedo lo stesso salone dove io in questi ultimi anni ho registrato diversi dischi. Come se non bastasse, è stato restaurato il pianoforte a coda che è lì e che Rita Marco Tulli ha suonato nei dischi che abbiamo fatto insieme, così come l'ha suonato Enzo Iannacci e Paolo Iannacci nei dischi che abbiamo fatto insieme, il pianoforte a coda che Ellington ha usato in questo disco. Io ho toccato la tastiera del pianoforte dove ha messo le mani Duke Ellington. Non so se vi spiego. Ecco, fine dei libri di questi ultimi 24 mesi. Ciao. Grazie a tutti.